I consiglieri regionali della seconda commissione consigliare hanno visitato questo pomeriggio lo stabilimento Fatta Cerbara dove hanno incontrato il presidente della TTI Fabio Rossi e una delegazione dei lavoratori. Il futuro per tutta la filiera tabacchicola dell'Alto Tevere rimane incerto dopo la decisione presa dalla multinazionale JTI di spostare dalla prossima campagna produttiva la lavorazione del tabacco greggio presso lo stabilimento di Bastia. La situazione è attualmente in stallo anche se i lavoratori sperano che i numerosi tavoli aperti e la vicinanza delle istituzioni locali producano risultati concreti. Noi lavoratori abbiamo un enorme problema che è l'incertezza del nostro proseguo lavorativo diciamo e dunque le istituzioni territoriali hanno oggi riconfermato la loro vicinanza e auspichiamo che tutte queste sinergie, tutti questi incontri e i numerosi tavoli che ci sono aperti producano dei risultati concreti. E' chiaro che ancora c'è tantissimo da fare tantissimo da lavorare noi lavoratori abbiamo intenzione infatti di rilanciare una giornata di mobilitazione anche cercando di fare in maniera molto grossa noi vogliamo far vedere queste 2500 persone di una filiera che ci sono veramente e vogliamo radunarle tutte in una piazza. siamo veramente grati ai consiglieri della seconda commissione consigli regionali per essere venuti qua e aver potuto constatare direttamente sia la capacità della professionalità del personale sia anche investimenti fatti appunto e anche la capacità appunto di diciamo così di implementazione che c'è stata negli anni di questo di questo impianto quindi un ringraziamento da parte del del TTI del consiglio di amministrazione. La seconda commissione tecnicamente ha il dovere di costantemente essere a fianco di questa azienda che abbiamo visto dotata di impianti tecnologici non secondari sono stati investiti milioni di euro in questi anni che hanno migliorato la qualità come più volte le stesse multinazionali hanno riconosciuto c'è una omogeneità e uno standard di qualità eccezionale quindi a oggi la partita è a Roma e noi sosteneremo queste imprese questi lavoratori perché la partita sia riportati in termini di giustizia per tutti.